ci stiamo riposando ci ha raccontato questo ragazzo che avete fatto un bel gesto la settimana avete regalato il pane si fa qualche si può abbiamo fatto per 5 giorni una sessantina di milioni al giorno complimenti per i regali e per questa diciamo nuova idea sull'attività di nuovo grazie ci vediamo prossimamente grazie assolutamente sì assolutamente sì di nuovo resista sì in bocca al lupo anche a lei buon lavoro arrivederci grazie